SESTA FLOTTA SESTA FLOTTA Non pensavo avessimo detto, ma immagino sia come una gara, scommetti sul cavallo perdente e finisci così. 627 è ciò che vuole Makarov, perciò liberiamolo. 30 secondi. Hornet 2-1, qui Jester 1-1, confermiamo volo 2F-15, 4A per la sezione, pronti a neutralizzare le contraere. Ricevuto Jester, procedete. Versaglio individuato, Fox 3, Fox 3. Risposta letale. Hornet 2-1 si è caturizzati a ingaggiare, in buco al lupo. Qui Hornet 2-1 ricevuto. Qui Hornet 2-1 ricevuto. Qui Hornet 2-3 ricevuto. Qui Hornet 2-1 ricevuto. Fuoco, 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 fuoco. 9-2-2-1, effetto sul bersaglio positivo. A tutti i cecchini, qui McStavish, pronti all'ingaggio. Stabilizza. Ricevuto. Cecchini, ingaggio autorizzato. A destra. Procedo. Quattro nemici nella prossima torre. E' rinforzi. Shepard, ordinate i cazzi a digestare il fuoco. C'è mancato poco. Cercherò di farvi guadagnare un po' di tempo. A questo punto ho un prigionario in un gula che non vale molto per la marina. Danna fiammerì. Pensavo fossero loro i buoni. Ghost, niente chiacchiere. Tieniti pronto. Secondo andate in arrivo. Tenetevi pronti. 10 pieni. Qui 2-1, sto aterrando. 4-1, sbarcata. Quattro, 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 quattro. Qui 5-3, mi ha lavoro per fornire fuoco di copertura da cecchino. 5-3, qui 2-1, ricevuto forte e chiaro. 2-1, in posizione per ingacciare. Ricevuto 2-1, bersaglio al secondo piano. Ricevuto. Designati 6 tango. Ingaccio imminente. Movimento contento di quale edificio a due piani. Questo è di un pizza. Grazie a tutti, non c'è quella mia. E ne vado! Non c'è per un tempo uscito, non c'è per un tempo uscito. Vateli fuori! Mi è stato a terra! Score! Non c'è per un tempo uscito, avrò steone d'adici! Ricevuto. Lo vedo. Ricarica! Ghost! E mi sono contento di quell'edificio a due piani. Sto andando. Vi assaglio in vista. Entriamo, prendiamo il prigioniero 6-2-7 e ce ne andiamo. Occhi agli angoli, andiamo! Rush! C'è stato il fuoco! Ecco la sala comandi lassù. Sfruttiamola per favore il prigioniero. Voi vuoi, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Accederò al sistema per cercare il nostro uomo. Ci vorrò a tutti. Ricevuto. Roots, tocca a noi andare. Seguimi. C'è la vuota. Bene, sono collegato. Ora vi seguirò tramite le telecamere di sorveglia. Ricevuto, hai la protezione del prigioniero 627. Negativo, ho ottimato il proiettore da ricerca sul nostro piano per indicarvi i nemici e rendervi la vita più facile. Ricevuto, occhio, il prigioniero sarà in una di queste cellule. Ghost, porta di sicurezza, aprila. Ci provo. Questa è ferraglia di un secolo fa. Ghost, è la porta sbagliata. Ricevuto, rimanete in attesa. Ce l'ho fatta! A meglio, andiamo! Trojan! Versaglio ore 9. Cella di 4 vuota. La cella è vuota, avanti! Dimmi qualcosa, Ghost, queste celle sono deserte. L'ho trovato! Il prigioniero 627 è stato trasferito all'ala est. Passate per l'armeria al centro. È la squadra più veloce. Ricevuto, squadra, dirigetevi verso l'armeria al centro. Vedi qualcosa di buono? Cattive notizie. Rilevo 3, no, 4 squadre nemiche in convergenza verso la vostra posizione. Mi sento arrivare. Andiamo, siamo troppo esposti. Ghost, apri la porta! Merda! L'hanno bloccata col protocollo d'emergenza. Dovrò aggirarlo. Troppo tardi, sono già qui. Attenzione! Altri nemici diretti verso di voi. Prendi uno scudo antisommossa. Prendi uno di quegli scudi! Prendi uno scudo! Apri la porta! Ci sono quasi! Sto passando per il circuito ausiliario! Via, via, via! Usa lo scudo e attira il fuoco nemico! Apri! Mestaglio l'ho scoperto! Mestaglio in vista! Yecky! In movimento! Ricevuto! Roach! Cessare il fuoco! Weehold! Ti consiglio di passare per i piani inferiori, calandovi da quella finestra. Ricevuto, Roach! Seguimi! Capitano Mestavich, ultimo piano a posto. Vi raggiungiamo al piano terra. Nessun segnale dalla telecamera della cella di isolamento. Credo manchi la corrente. Ricevuto! Squadra, passare al visore notturno. Roach! Fate risaltare in aria! Speridi, soldati! Visivni, car! Venite, sudati! Pura! Ah! Sephard, scusatidiamo lo era. Dica alla marina di cacciare il fuoco! La marina non ha voglia di discutere adesso, rimanete in attesa Bravo 6, per ora hanno cessato il fuoco, proseguite, vi terrò informati, passo e chiudo L'Andrea, salto dietro ai tuoi gruppi, ha un contatto visivo Via 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 Le lecchie docce sono a circa 9 metri sulla sinistra, sfondate il muro per entrare Sbarbagnatevi L'Andrea, scontato spogliatoio a sinistra, ho un contatto visivo Inizio al secondo piano, eliminateli Ruppete assalto pesanti davanti a noi, non attaccate frontalmente, siate veloci e sparati ai ghiacci Fate esplodere le granate alle loro spalle Rappare il flore Rappare il flore Fringe, faceli fuori Rappare il flore Restate neutralizzato Rappare il flore Rappare il flore Rappare il flore Rios! Versaglio alle ore 12! Ricevuto! Inseguimento! Versaglio in corso! Nuova a terra! Rios! Capritemi! Ricevuto! Ricordatevi con gli armagetti! Spistai! Versaglio alle vostre ore 11! Ricevuto! Versaglio aggrazzato! Dovete andare verso quel buco nel pavimento dall'altra parte delle docce! Seguimi! Via! 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 Ghost, siamo nelle vecchie gallerie! Direttore del sudeste! Ok, continuate a seguire la galleria! Dimmi qualcosa, Ghost! Non voglio essere ancora qui quando le navi ricominceranno a sparare! Andate avanti! Ci siete quasi! Rilevo due fonti di calore! Una dovrebbe essere il prigioniero 627! Gettala! Gettala! Soop! Rice... Questa è sua, signore? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?